C'è una chiara disorganizzazione degli enti preposti nell'erogare la giusta assistenza ai cittadini. È il caso dell'utine della ginecologia ostretrice di secondo livello a Gela. Lo ribadisce il Comitato per lo sviluppo della Regione Eseghe, scritto una lunga e dettagliata nota al Ministro della Salute, al Presidente e al componente della Commissione Igiene e Sanità, all'Assessore regionale alla Salute, al Presidente della Sesta Commissione Ars, Servizi Sociali e Sanitari e al Direttore dell'Asp di Caltaninsetta. Per conoscenza, la nota è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Gela. Dal 2009 si legge il Comitato, il cui portavoce Filippo Franzone ha condotto iniziative al fine di migliorare l'offerta assistenziale ospedaliera dell'area gelese. Numerose le segnalazioni al Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli Errori Sanitari, Leo Luca Orlando. La successiva collaborazione con il Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltaninsetta, Paolo Cantaro, portò ad un importante risultato. L'ospedale Vittorio Emanuele di Gela fu individuato quale centro di ginecologia ed ostretricia di secondo livello e sede dell'unità di terapia intensiva neonatale. In quest'ultimo caso, elementi determinanti furono l'alto numero di nascita nella zona del gelese, la notevole distanza dall'Utin più vicina, 85 km con strade impercorribili, l'alto numero di malformazioni neonatali presenti in zona ed il grande bacino di popolazione residente, 400.000 abitanti in appena 35 km di raggio. Entro lo scorso 31 dicembre bisognava adeguarsi ai requisiti strutturali per la rete materno-infantile siciliana, ma così non è stato. Nel gennaio scorso fu riconfermata l'attivazione dell'Utin con decreto assessoriale, ma nulla. E il mese dopo, durante un'audizione alla sesta commissione ARS, fu detto che si stava facendo il possibile per rendere operativa la struttura. Occorrono, fu detto, dai 15 ai 18 medici ed altrettanti infermieri per far partire l'Utin, che però non possono giungere dagli organici ASP, in quanto figure con una particolare specialità non presenti negli organici. Altri incontri, dati alla mano, non hanno sortito al momento gli effetti sperati. Gela rimane allo stato attuale, l'unica sede di Utin siciliana a non essere stata attivata. Tutto è in alto mare. Ci sono i macchinari acquistati diversi anni dietro, ma manca il personale. L'auspicio, conclude il comitato, è che ci si attivi per controllare quali sono le cause di questi continui ritardi. L'Utin è un'indispensabile struttura salvavita per il territorio gelese.